ciao a tutti mi sono reso conto che non sempre così chiaro come funzioni il kit a ghiera quindi parliamo di ammortizzatori regolabili in altezza e il vantaggio principale di questa tipologia di prodotto è che permette di regolare l'altezza dell'auto andiamo a vedere come ragazzi questo è un kit a ghiera parliamo della sospensione anteriore in questo caso agendo sulla ghiera superiore quindi non questa qui che stiamo giusto spostando ma questa noi riusciamo a variare l'altezza dell'auto in questo caso stiamo avvitando la ghiera che salirà portando con sé la molla quando andremo a riabbassare l'auto la noteremo per forza di cose più alta quando noi terminiamo il lavoro possiamo andare a bloccare la ghiera inferiore ovvero questa adesso lo stiamo avvicinando a mano chiaramente la blocchiamo con un attrezzo e la sospensione è regolata dunque ragazzi abbiamo visto che è molto molto semplice intervenire su questo tipo di ammortizzatori vorrei darvi un consiglio i kit a ghiera sono generalmente molto molto rigidi quindi se dovete optare per questa tipologia di prodotto mi raccomando non scegliete un entry level ma magari un prodotto di buona qualità perché se no l'auto sarà davvero molto molto dura e scomoda da guidare mi raccomando iscrivetevi al nostro canale se non l'avete già fatto attivate la campanella al prossimo video ciao ciao